Quando ti hanno detto, guarda che ha accettato, guarda che lo fa Dove eri, come l'hai preso, cosa è successo? Ti ricordi dove eri in quel momento? Sì, sì, mi ricordo ancora, ero nell'hotel In un hotel a Milano, dove tra l'altro sono anche adesso, questi giorni E stavo andando in bagno, però tipo quello comune Perché stavo andando su di sopra E allora certo, ho visto un messaggio sul gruppo E leggo No, vabbè E mi mandano sta traccia qui E io tipo, mi sono proprio fermato così Continuavo tipo a farla partire E dicevo, vabbè non è vero E Michi dopo, perché pensavo mi stessero facendo uno scherzo Poi invece Michelangelo Ha detto, no vabbè raga una sosia Perché infine, no giuro Non avevamo mai visto tutto E infine poi finché non siamo andati a Lugano Che però non l'abbiamo vista Abbiamo parlato col figlio e tutto Forse ci ho creduto solo adesso Che è uscita, hai capito? Hai realizzato adesso Sì Che è uscita, hai capito?